Abbiamo cambiato gamba, ti esce il sangue lo sai? Come sei stata brava! L'abbiamo fatto con Liz? Sì, mi metto solo la vendina. Mettiamo la vendina e poi tocca a Merina. Dov'è Mary? Eccola, sei carica? Vuoi fare la puntura? Faccio un vaccino per ogni like! Ale, pippa nuova, scendiamo giù? Sei molto brava. Eccola qui. Ti tocca? Sì, piccola. Sei pronta, piccola? Mary, c'è un motivo preciso per cui tu stai sbavando? Iscriviti al canale per vedere tutte le mie sbavate! Un'orecchio su e un'orecchio giù. Vabbè, ti racconto una favola così non ti accorgi che la Silvia ti sta facendo la puntura. Un giorno c'era un cagnolino che andava al mare, ha incontrato un gatto, poi si è messo a rincorrerlo. Il gatto ha fatto finta di andare dentro l'acqua, poi si è spostato e il cane è andato a finire nell'acqua e si è bagnato tutto. Il suo padrone non voleva farlo più salire in macchina e è tornato a casa a piedi. Sembra la storia del nostro video. Guarda, non ti sei neanche accorta e ti ha già fatto la punturina. Brava piccola, cos'è l'unica cosa che sai fare te? Dammi la zampa, dai! Sì! Sai fare solo una cosa, ma la sai fare molto bene. Dammi un bacino. Liz la benda azzurra, Mary la benda viola. Che è più fashion? Siccome siete state molto brave, vi do il premietto. Mary, vai la pappa? Finché non arriviamo a mille iscritti non mangio più. Andiamo di fuori, intanto che aspettiamo l'esito. Dai, andiamo. Mary, guarda i tamponi? Su. Negativi! Che bello! Possiamo fare un'altra puntura adesso. E vai! Arriva il bacino, questo l'hai già fatto, eh. Vediamo. Ma non hai fatto neanche bau? Amore, cosa vuoi te? Sei ansioso di farlo anche te? Adesso arriva. Ti distrago con un'altra favola. Mary, praticamente c'era un granchietto in mare che camminava sulla riva. E poi un vecchietto è passato e l'ha pestato. Morto. Hai già fatto, brava! Ti è piaciuta la mia favola? Vaccino fatto! Ringraziamo il centro veterinario in Emagnolo per questa fantastica assistenza e per questa fantastica veterinaria. Vaccino alle bimbe? Ciao, ciao!